Bentornati allo Stagista Podcast e soprattutto benvenuti all'ultima puntata di questa stagione, di questa prima stagione dello Stagista Podcast. Abbiamo iniziato a novembre facendo un episodio a settimana sempre e solo con un obiettivo, quello di imparare, provare a imparare tutti i segreti del mestiere e del successo di alcune delle persone che stimo di più. Io ho imparato un sacco di cose, mi sono divertito tanto, spero anche voi. Ci tengo a ringraziarvi per averci fatto diventare parte della vostra quotidianità in questi mesi. Grazie a tutte le persone incredibili che lavorano con me. Dai, all'ultima puntata, ragazzi, fatevi un po' sentire. Oh, ci sta! E per chiudere alla grande, questa stagione, prima dell'estate, non posso non diventare lo Stagista di una donna incredibile che non ha bisogno di presentazioni, ovvero Mara Maionchi! Ciao Mara, benvenuta allo Stagista Podcast. Ciao, grazie, sono venuta molto volentieri. Sono molto contento che tu sia qui, questa è la nostra ultima puntata di questa stagione, quindi chiudiamo. Quante ne avete fatte? Ne abbiamo fatte tante, troppo, non me le ricordo neanche tutte, però abbiamo iniziato a novembre e arriviamo fino a maggio, quindi sono stati un episodio a settimana. Complimenti, veramente tanti. Sei molto gentile, anche perché tu hai veramente un calendario da fare in vidia a Mattarella, cioè sei una persona... Ho la stessa età di Mattarella. No, però hai anche il suo calendario, cioè fai un sacco di cose. Quindi vorrei iniziare da qui, visto che nello stagista io voglio sinceramente imparare dei lavori, no? Il mestiere di una persona. Ci racconti la giornata tipo di Mara Maionchi, cioè una tua giornata. No, guarda, se non faccio niente, sto sul divano, guardo la televisione, cambio 30 volte perché quello mi piace e non mi piace, magari vedo qualcosa di registrato, magari qualcosa che mi interessa, qualche spettacolo. Se invece lavoro, lavoro, faccio qualsiasi cosa, perché poi sai, io faccio sempre me, non sono un attore, non sono capace di fare qualcosa, sono terribile perché divento improvvisamente sorda, muta, non parlo, non riesco, non riesco ad entrare. Se invece parlo di me, vabbè, quello mi è più facile. E se faccio io, cioè fare il giudice, io facevo il giudice senza la pretesa di essere un giudice vero, ma di dire quello che pensavo io di quella cosa lì, che poteva essere anche sbagliato, ma purtroppo la vita è così. Immagino sia stata anche la tua fortuna essere così sfacciata e sincera nel fare quel lavoro lì. Ma guarda, sì, credo di sì, in parte il mio carattere mi ha aiutato, sì, perché poi sono un'invenzione, mi hanno inventato in tutti i modi, mi sono inventata nella discussione, sono stata un inventore di me stessa, devo dire, ho cominciato a lavorare, figurati, non erano ancora nati i tuoi genitori, nel 59. Non erano ancora nati, no, no. I tuoi genitori, nel 59 ho cominciato a lavorare in un'azienda che faceva spedizioni internazionali, di cui io non sapevo assolutamente niente, poi dopo un po' ho imparato e allora imbarcavo a Genova, imbarcavo nelle varie zone di navi che andavano, cargo che andavano oltre l'oceano. Poi sono venuta a Milano perché secondo me Milano in quell'epoca rappresentava la speranza del lavoro, del cambiamento, di trovare cose che magari in una città molto carina, molto bella, che mi ha dato i Natali, che è Bologna, magari c'era ancora un mondo meno possibilista. Sono venuta a Milano e ho fatto di tutto, dagli anticrittogamici all'impianto antincendio e poi hai cominciato la storia con un annuncio sul Corriere della Sera in cui si diceva cercasi segretaria per ufficio stampa di una casa discografica che era l'Ariston e che adesso non c'è più. Infatti una cosa che mi colpisce sempre quando penso alla tua storia è che tu l'hai raccontato in mille interviste, a differenza di molti, non hai mai avuto il grande sogno di arrivare a fare un lavoro, tu hai sempre detto io facevo più o meno quello che mi capitava. Sì, sono curiosa, mi divertiva sentire, vedere queste cose, sì, non ho mai avuto, anche perché forse non avendo fatto uno studio preciso, non avevo già un'indicazione, una voglia, io andavo all'avventura e devo dire sono stata molto fortunata, questo devo dire di sì. Quindi un bel giorno tu su un giornale trovi l'annuncio in cui si cercava una segretaria per l'ufficio stampa, quindi è un po' lì che inizia la tua carriera nel mondo della discografia. Sì, mi sono presentata e in grande capo mi ha assunto. Ecco, la prima domanda te la voglio fare qui, immagino che una cosa del genere oggi nel 2023 sia irripetibile, quindi provo a chiederti, una ragazza o un ragazzo che oggi sogna di fare la stessa carriera però a distanza di molti anni, come deve fare? Ma intanto io capisco che i tempi sono cambiati, non c'è dubbio, c'è meno possibilità, però non avere una scelta precisa, cercare di andare a fare qualsiasi cosa e apprendere, perché qualcosa tu apprendi sempre, capito, che poi ti può servire in altre occasioni, ma lavorando impari la situazione, come funzionano gli uffici, che possibilità, secondo me bisogna fare perché poi arriva il momento che se tu sei pronto, che hai imparato a fare, ti capita la cosa giusta. Per cui secondo me bisogna sempre fare, non lasciare perdere niente, controllare, vedere, provare e così, io non avevo la minima idea di fare la discografica poi nel tempo, poi ho imparato, ho imparato da quelli bravi però, ho avuto fortuna a lavorare con la gente che faceva già questo mestiere con ottimi risultati da tanti anni, quella è stata la mia fortuna. Che sono stati dei tuoi maestri fondamentali in quegli anni, quando tu facevi ancora il lavoro diciamo d'ufficio. Sì, facevo la segretaria. Beh, uno è stato Alfredo Rossi, che era il proprietario dell'Ariston, che aveva, era stato un grande editore, dall'editoria dove nasce la canzone, che è un fulcro importante, lui mi ha insegnato il gusto, il gusto io avevo il mio, però è poi i tempi, l'ascolto, sai tu per fare la musica devi ascoltare quello che succede nel mondo, perché poi succede l'attualità, quando sono nato i Vitos era un'attualità, per cui secondo me ascoltare, ascoltare quelli che parlano, ascoltare molto, parlare poco a me non mi è riuscito tanto quello, ma comunque va bene. E poi essere sempre pronti, a me quando mi dice chi è che sarà io, perché comunque mi mettevo, non avevo paura di, anche se non la sapevo proprio bene la storia, fa niente, buttati, qualcosa succederà. Diciamo, credi nel motto, fake it until you make it, sai quando dicono, fingi di essere pronto, di essere una determinata cosa, finché effettivamente poi non lo diventi. Esatto, poi mentre tu fingi, devi però imparare da quelli che non fingono, perché è molto importante vedere e controllare, dopodiché non copiarli, ma capire cosa si dice, poi prendi, mentre hai capito, prendi anche le tue possibilità. E ti ricordi quando è stato il momento in cui hai detto, sai che forse sono brava a fare il lavoro di discografica? Sì, è stato, facevo la promozione, è stato quando Battisti e Mogol mi hanno chiamato per andare alla numero uno e ho pensato che qualcosa non è che avevo fatto, ma insomma mi ero messo in luce con due persone che sicuramente il mondo della canzone la conoscevano bene. Ti voglio fare una domanda su Battisti, te l'avrei fatta dopo, ma l'hai citato. In tantissime interviste tu dici, la cosa che mi ha sempre colpito di Battisti è che lui ha introdotto, ha portato in Italia, nel mondo della musica, la canzone moderna. Mi racconti a me, soprattutto che purtroppo però vi motivi d'età, quegli anni lì non li ho vissuti, qual era l'innovazione che ha portato Battisti? L'innovazione era la struttura della canzone, perché noi praticamente la canzone veniva dalla lirica, cioè c'era stata la famosa romanza, questa era la canzone di un'epoca. E Lucio portò invece l'innovazione che fecero anche i Beatles nel mondo della canzone, intanto il racconto, intanto il modo di esprimersi, cioè non il cantante tradizionale, che per amor del cielo va benissimo, ma è un cantante che racconta una storia. E poi la divisione, la ritmica, l'uso degli arrangiamenti, insomma c'è stato un notevole cambiamento con Lucio. E a proposito di alcuni degli artisti con cui hai lavorato, te ne voglio citare alcuni e vorrei che per ognuno di questi mi dicessi la prima cosa che ti viene in mente, proprio una delle prime artiste con cui hai lavorato è Ornella Vanoni, per esempio. Sì, beh, fantastico, Ornella è simpatica anche adesso, che ha insomma qualche annetto. È una donna che veniva dal teatro, per cui conosceva, ha cominciato con le canzoni della Mala, e poi pian piano si è portata nella musica leggera. Però ha sempre avuto un buon gusto, buon gusto. So che hai conosciuto anche Franco Battiato, quindi non posso non chiederti qualcosa anche su di lui. Beh, devo dire, è stata una delle persone più intelligenti e più belle che io abbia mai conosciuto. Franco era fantastico. Poi su Lucio Battisti l'abbiamo detto? Beh, Lucio era fortissimo, era proprio un uomo di poche parole, di grande lavoro. Lui lavorava come se fosse in ufficio. Lui si alzava la mattina, alle nove e mezza come si sedeva. Perché vedi, trovare un riff, trovare una melodia, non è che ti viene... devi provare, devi cercarla, trovi un'idea, ti piace. Allora cominci a lavorare su questa idea. Cioè, non è che la canzone viene... Cioè, devi lavorare per trovare, per sentire. Beh, lui era un lavoratore incredibile. Tutti quelli che hanno avuto successo nella musica sono stati dei lavoratori incredibili. Senza lavoro non vai da nessuna parte. Questo è ascoltare, ascoltare quello che è meglio di te, perché se ascolti quello che è peggio di te... Non impari nulla. Non impari niente. No, mi colpisce comunque questa cosa, perché tantissime volte invece nell'immaginario collettivo delle persone, quando uno pensa ai grandi nomi della musica, pensi sempre che siano, non dico dei fancazzisti, però della gente che fa una vita molto rock and roll, diciamo. Ma la puoi fare rock and roll anche lavorando, per carità. Tanti gruppi, io non penso che i Rolling Stone, i Beatles, non lavorassero. Io credo che lavorassero molto, perché devi cercare cosa dire, cosa fare, la musica, le armonie, devi cercarle, devi lavorare, come un qualsiasi altro lavoro. Devi avere anche la qualità per farlo, perché non è che tutti io, per esempio, sono una pippa terribile, se canto sono un disastro, se non so fare niente. Per cui non avrei mai potuto. Però io credo che il lavoro sia sempre... Io credo che il talento non riesca se non hai il lavoro. Questa è una cosa di cui sono certissima dopo tanti anni di esperienze. Tutti quelli che hanno un risultato, modesto, grande, non importa, lo hanno perché hanno lavorato, hanno cercato loro stessi, hanno cercato di dire delle cose che sentivano, hanno cercato. Io su questo sono assolutamente... Credo che l'invenzione, il momento che può avere di fortuna, capita una volta, poi basta. Dopo se non lavori non trovi più niente. Ti faccio una domanda. Tantissime volte ci sono degli artisti che si vivono male il fatto di aver fatto solo una canzone che ha avuto grandissimo successo. Come ti poni tu di fronte a questa cosa? Cioè, il frutto magari di una non costanza oppure può capitare che uno... Io credo che può capitare di tutto nel mondo, su questo non c'è dubbio. Però io credo che la costanza, il fatto di... magari gli è capitato o l'ha trovata. E se no deve crearsi un gruppo di lavoro che lavora, lui dà delle indicazioni, il gruppo di lavori lo segue. Io credo che... Ma tutti hanno avuto dei collaboratori obiettivamente, anche perché in una canzone Mogol Battisti... Mogol è stato importante per Lucio, perché alla fine è stato colui che ha creato il linguaggio nelle canzoni di Lucio. Che devo dire, il linguaggio vuol dire essere ritmici, non finire... Insomma, è un lavoro anche quello. E io credo che le accoppiate, credo che le persone che hanno lavorato insieme le hanno avuti tutti, i produttori, cose, siano molto importanti. E come si fa a trovare le persone giuste di cui circondarsi? Le prime cose che devono saltare alla mente quando scegli un produttore, un autore? Eh beh, il produttore magari è proprio il produttore che ti sceglie. Voglio dire, fai il caso di Ferro che io e Salerno, che sarebbe anche mio marito, abbiamo trovato tanti anni fa e che lui ci colpì moltissimo questa timbrica di voce che adesso lui esagera un po', ma aveva un colore fantastico. Da lì parti, poi provi a vedere cosa sa scrivere, poi via. Lui è andato avanti, indietro da Milano per un anno e mezzo portandosi via le sue canzoni non ancora pronte, secondo me, per essere messe sul mercato. Per cui un anno e mezzo avanti e indietro in treno, anche se noi li facevamo all'omaggio del treno, non è facile di un ragazzo di belle speranze, però ragazzi, finché non sei competitivo, cosa vai sul mercato a fare? Ti rovini la reputazione senza avere nessun risultato, non va bene. E poi c'è qualcuno che magari cucca un colpo, ma quello è come andare al casino. Certo. Non è un lavoro. Ma sui casino, ma io ho letto questa cosa, ma è vero che tu qualche anno fa hai scritto una lettera a un casino, più casino dici dove vi prego non fatemi entrare. Io pensavo fosse una fake news. No, vi prego non glielo ho detto, glielo ho detto solo di non farmi entrare. Hai mai avuto modo di sperimentarlo, cioè di vedere se questa lettera funziona? Non vincevo mai, mi ero rotta le scatte e l'ho deciso di farmi fuori. Però ti è mai capitato di andarci ed effettivamente questa lettera ha funzionato? No, no, funziona, funziona. Non solo, ma se tu vuoi cancellare la lettera, devi fare un corso di tre sedute con uno psicologo. Cioè ti sei fregata da sola? No, mi sono fregata da sola però poi mi sono rifatta in altre cose. A me piace ogni tanto dedicarmi alla fortuna. Beh, non bisogna esagerare però attenzione perché voglio fare tutto in proporzione a quello che puoi fare. Un'altra cosa che voglio chiederti tornando alla tua carriera lunghissima da discografica, qualche puntata fa ci sono venuto a trovare Settimio Benedusi che è un bravissimo fotografo e mi è piaciuta la definizione che lui ha dato della fotografia. Lui dice per me la fotografia non è una cosa da vedere, non è estetica, è un mezzo di comunicazione come la radio, la televisione, come una lettera, no? Per me, ma credo anche per te la musica è la stessa identica cosa. Beh, la comunicazione è fondamentale anche giustamente nella fotografia da un articolo, da tutto quello come ti vesti, come non ti vesti d'altronde mi sembra che sia e quindi la comunicazione è importante. La comunicazione un po' sei naturalmente portato a avere qualche possibilità e poi te la crei. E quindi ti chiedo come fa un artista giovane magari nel 2023 a capire che cosa ha da dire? Guarda, oggi ci sono tanti mezzi, registra qualcosa, si riascolta e deve avere la forza dell'orecchio di capire che quello che ha fatto non va bene o se c'è qualche idea. Dopodiché la può portare ai professionisti che magari l'aiutano a sviluppare l'idea. Quali sono le cose che tu quando ascolti una canzone ancora oggi oppure quando lo facevi attivamente questo lavoro erano subito un campanello d'allarme negativo o positivo? No, guarda, io bisogna fare come in una seduta dallo psicologo, ti lasci andare e ascolti. Se la cosa ti colpisce in qualche modo vuol dire che c'è qualcosa di buono. Se la cosa ti passa come acqua sopra non va bene e se poi addirittura ti disturba devo dire che proprio non va benissimo. Almeno non va bene per me perché poi sai anche la musica è abbastanza è un fatto personale. Come fai a trovare certi artisti? Perché a te sono piaciuti può darsi che a qualcun altro? No. Oppure tu individui il fatto che questo potrebbe. Certo. Che potrebbe e poi lavori un po' di più di un altro ma è difficile che tu da un qualsiasi artista abbia sentito una canzone formidabile alla prima uscita perché oltre che il gusto oltre che l'attitudine eccetera c'è anche insomma un fatto di personalità in cui tu non importa voglio dire Paolo Conte non è certo un cantante tradizionale però un grande autore un uomo fantastico un uomo che si vede a vedere un concerto ti diverti come un pazzo anche Vasco voglio dire non è che Vasco per me è Vasco insomma c'è Vasco Mi incuriosisce questa cosa della personalità tu quando incontriavi un artista che magari musicalmente era bravissimo però gli mancava la personalità anche il modo di stare sul palco che cosa gli dicevi cioè come facevi a farglielo capire a portarlo sulla strada giusta beh pian piano ci sono anche delle persone che insegnano ma io credo che quello che conta per primo è l'espressione artistica della voce del canto dopodiché lo spettacolo si aggiunge dopo si aggiunge dopo e lì pian piano deve andare a vedere i concerti vedersi a casa tutto il giorno di vedere cosa hanno fatto i grandi sai quelli che sono passati prima di te non sono proprio da buttare via sono da imparare qualcosa e qualcosa può essere d'aiuto se tu vedi un concerto di Michael Jackson decidi di non fare più l'artista perché non potrai mai raggiungere però un tentativo di avvicinarsi o di capire come in certe cose si è scavata cioè è molto importante il passato serve per il futuro non è che volevo dire a cazzo ma non l'ho detto ma si può dire si può dire puoi dire quello che vuoi ma hai capito cioè conta quello che è stato fatto e che ha avuto successo devi capire perché l'ha avuto e ti metti lì in buona fede rilassato qualcosa ti arriva e quel qualcosa vuol dire che in parte hai capito perché mi dici di uno degli artisti con cui tu hai lavorato durante la tua carriera chi ti ricordava di più famoso del passato cioè che quando magari hai visto Tiziano Ferre hai detto mi ricorda devo dire la Gianna Nannini che quando l'ho sentita con quella voce quel modo di trimpellare sul pianoforte quel casino che faceva mi ha ricordato con tutto il rispetto Janis Joplin quale Janis Joplin è stata anche la motivazione per cui io ho fatto X Factor infatti voglio arrivarci allora parliamo parliamo del grande capitolo X Factor perché per molti non è scontato tu sei arrivata al successo televisivo sei diventata come ah mi definiti tu una starlet una starlet dico anche qualcosa di peggio dillo pure una bella starlet del cazzo è vero no nel senso che tu la tua carriera da discografica l'avevi già fatta com'è che un giorno qualcuno alza il telefono e dice oh Mara hai voglia di fare questo provino no mi telefonò la Sony perché il programma era Sony e mi disse guarda ti chiamerà come si chiama il sindaco di Gori e mi chiamarono per fare un provino eravamo in tanti in tanti c'era tanta gente a questo lì c'era Morgan e c'eravamo poi degli altri discografici eccetera e devo dire che è entrata una ragazza che con un fare un po' così come quelle non siete dice canterò il pezzo di una ragazza di una cantante americana formidabile che voi non credo che conosciate eccetera eccetera e canta e canta un pezzo di Jenny Joplin finito di cantare io non insomma non ho resistito ho detto senti testa di cazzo come ti permetti di dire che non ascoltiamo o non abbiamo ascoltato o non capiamo Jenny Joplin per cui e lì Gori disse lei e infatti cominciarono e cominciai per cui con la ventura che era una star della televisione Morgan che comunque era un artista che aveva già fatto le cose io che non mi conosceva neanche la mia portinaia cioè non lo so però poi è andata bene l'ho fatto quattro anni poi l'ho rifatto dopo con Sky però anche lì voglio dire mi sono successe delle cose strane ma quando tu li vedi sul palco anche se non hanno fatto successo c'è qualcuno che trasmette già qualche cosa quando abbiamo visto la prima volta almeno io c'era qualcuno che non era favorevole hai visto i Manesky non c'era il dubbio voi avevi anche dei dubbi avevano tutto le canzoni il modo di il cantante il gruppo l'insieme micidiali ti saresti immaginata che avrebbero fatto quello che poi hanno fatto assolutamente sì ci avrei messo se non ha scommesso ci avrei messo i soldi sì non c'è dubbio tra l'altro però l'edizione che loro hanno perso è quella che ha vinto diciamo che sono arrivati i secondi in realtà l'hai vinta tu poi con un altro sì solo perché io ho scelto per l'ultimo e siccome chi vota il pubblico e purtroppo sulle canzoni nuove un po' di lavoro va fatto ho fatto fare a Licitra 4-5 pezzi micidiali nel mondo e su questo lui siccome cantava sai cantare bene non vuol dire aver successo è un'altra cosa c'è tutto c'è il successo è un insieme di cose non è solo cantava bene è stato più popolare ma non importa che i ragazzi potessero far successo non c'era dubbio e come fa un artista che fa un talent io credo che i talent ci sono tanti pregiudizi siano una grandissima opportunità come fai però o meglio un consiglio che uno dovrebbe seguire per durare poi dopo un talent cioè nell'esatto giorno in cui va in onda l'ultima puntata del talent tu in che modo devi essere pronto se sei riuscito a prepararti durante meglio se non sei riuscito che non hai ancora trovato bisogna trovare le canzoni il mondo in cui questo artista si possa esprimere perché senza il mondo senza è una canzone che è fine a se stessa ma la capisci già dall'inizio e prima hai detto io sono diventata famosa che non mi conosceva neanche cioè ho iniziato a fare X Factor e non mi conosceva neanche il mio portinello te la ricordi la prima volta in cui qualcuno ti ha fermato per chiederti una foto o un autografo? è stato dopo tanto tempo no sì mi ricordo che mi sembrava strano che mi chiedessero una foto l'autografo mi fa ridere no perché io sono sempre stata dietro le quinte per cui l'ho visto fare agli altri non a me ma insomma poi poi siccome ho avuto fortuna che magari ero già un po' agé che la gente mi avvicinava con gentilezza con quasi come sia con i vecchi un po' di affetto per cui è vero per cui mi è piaciuto molto però è vero che tutti ti vogliono bene è vero non so perché però però è vero è verissimo infatti mi piace mi fa sentire mi fa piacere l'affetto delle persone però hai degli haters oppure neanche uno? cosa sono gli haters? gli haters quelli che ti criticano i non fan io penso che ne avrò ma giustamente hanno diritto a giudicarmi perché se uno dà fastidio le parolacce devo dire che io sono la regina del fastidio ma non c'è dubbio che ci saranno diranno cos'è che vuole quella lì e ci sta è giusto è così è un equilibrio tra il bene e il male ti faccio una domanda sulle critiche che magari per te è super banale però soprattutto oggi che sono molto più palpabili perché tu sei un artista apri Instagram e magari trovi gente che ti scrive le peggio cose come fa un artista soprattutto giovane che sia un cantante o non un cantante a rapportarsi con le critiche tipo tu quando seguivi gli artisti che consigli davi loro in questo senso intanto voglio dire se non sei in grado di leggere le critiche è meglio non leggerle perché sennò ti abbatti senza motivazione a qualcuno sapere che a molti piacerai è sperabile e che ad alcuni non piacerai per cui c'è un equilibrio tra piacere e non piacere questo è scritto nel cielo per cui l'importante è se vuoi non leggerle se non le leggi non sai che ha parlato male di te vivi nella serenità vivi nella serenità come quando Amadeus quest'anno a Sanremo ha detto io fino a che non finisce il festival non leggo neanche un giornale poi da lunedì inizio a Amadeus si ha ragione perché poi le critiche ci sono inevitabili bene e male non c'è dubbio le critiche le ha avute anche Battisti io mi ricordo c'era un famoso un famoso come si dice che mettevi un famoso DJ radiofonico allora importantissimo al quale non piaceva Battisti e tutte le volte mi ricordo anche per voi giovani di 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 Arbore dichiarò apertamente che non gli piaceva lo trovava banale lo trovava ritmicamente sbagliato per cui lui l'ha dichiarato più una volta e lui ci ha detto io sono questo qui se non piaccio pazienza e in quei casi come si fanno a gestire i momenti di down della carriera di un artista perché immagino quando uno vince Sanremo gli va tutto bene vende milioni di copie facile essere lì fare il manager la gente piuttosto che il discografico dire va tutto bene quando invece non suona mai il telefono che cosa che cosa deve fare una persona che fa il tuo lavoro deve intanto analizzare cosa ha fatto fino a quel momento per capire com'è possibile che non sia passata il canto il modo di cantare all'inizio se tu sei uno che cambia la situazione che fai la differenza non c'è dubbio che magari fai più fatica di un altro che è già più popolare avere successo però l'analisi è importante non è non è che non puoi dimenticare che se c'è qualcosa che non ha funzionato non sia in parte colpa tua magari nel gusto magari sei fuori moda magari anticipare è una delle cose più difficili perché capisci che tu arrivi con un'assoluta novità in un mondo già abituato a sentire altre cose e fai più fatica però sappi che se piaci a qualcuno potrebbe essere l'idea del cambiamento magari un investimento ma infatti bisogna investire sui giovani tu Mara quanti festival li sarei mai fatto da discografica? tanti sei tanti 36 36 tanti e mi dici la cosa più assurda che hai visto con i tuoi occhi durante la tua carriera cioè quella cosa che dici non ci crederete mai ho visto con un pezzo che avevamo nel 1900 non vincere Sanremo con ancora di decrescenzo quella è stata una cosa che non ho mai capito cioè che ci sei rimasta beh non è che ci sono rimasta insomma io alle prove quando lui ha cantato ancora si sono alzati tutti in piedi ad applaudire ed erano gente del mestiere è stato pompato in tutte le maniere dai giornalisti eccetera eccetera poi arriva lì è arrivato non so decimo questo mi ha un po' sbalestrato ok e invece quali erano dei capricci che tu non sopportavi quando accompagnavi gli artisti in giro che tu oggi che sei una starlet non hai perché sai che cosa si prova ad accompagnare qualcuno io credo che i capricci non li ho retti dalle mie figlie non ho capito perché dovrei reggere dagli artisti anche perché Battisti non aveva capricci ti spiegava la motivazione per cui non voleva fare certe cose o non gradiva certe cose per cui e poi era talmente potente del resto che le cose andavano bene lo stesso va bene all'inizio lui ha fatto perché si è mostrato di più ha fatto un festival bar però i capricci inutili perché sei nervoso perché sei agitato adesso non è che il manager è la tua mamma siamo seri tu lavori lavoriamo insieme io ti faccio notare delle cose se non ti va bene cambia manager perché insomma non è perché le cose che vengono dette in genere servono che tu magari non noti qualcosa le altre persone sono più abituate e ti danno dei consigli ascoltare i consigli e poi rielaborarli capire eccetera è importante fare il capriccio come i bambini non va bene però quelli erano proprio delle pretese che ti stavano sulle palle che appena le sentivi dicevi senti testa bassa lavorare ma no ma lavorare perché in genere il capriccio non mi diverte mai trovo che sia inutile non fa bene perché pensare avere magari delle domande intelligenti che ti possono eh quello lo capisco ma il capriccio per il capriccio cosa serve non fa bene a nessuno non fa bene a lui non fa bene a noi non fa bene mette un'agitazione in tutta la gente che lavora per te il fatto di essere scortese spiegavi perché quello uno è gentile e basta gentile normale dai non importa essere gentilissimo se ne prega e invece dei giovani chi ti piace adesso che ascolti mi piace Salmo ultimamente non ascolto più tanto Salmo mi piace Blanco escluso lo sketch che ha fatto a Sanremo che secondo me insomma faceva parte aveva il video che finisce così no però mi piace lui è interessante ma me ne piacciono tanti adesso voglio dire non è che e invece sempre per dare un consiglio a chi si approccia al mondo della musica al mondo dello spettacolo da sempre c'è questo stereotipo che credo sia anche un po' la verità di dire il mondo dello spettacolo è un ambiente tosto devi avere il pelo sullo stomaco no ma il pelo sullo stomaco è l'unica cosa che non serve devi essere normale capire è un mestiere per cui devi imparare il mestiere se hai le qualità hai possibilità di fare qualcosa devi ascoltare se scegli delle persone che ti hanno scelto vuol dire che ti hanno scelto perché hanno individuato in te qualcosa di interessante e non dico assoggettarsi perché questo non è la verità ma valutare le cose che ti vengono dette secondo me è importante perché nessuno ha voglia di parlare a gratis certo però sai tipo penso a tanti miei miti tanti personaggi grossi del mondo dello spettacolo grandi conduttori loro dicono che ne so il motivo per cui la mia carriera è durata così tanto al di là del talento oggettivo perché sanno fare qualcosa è stato comunque non perdere le radici con il mio passato non frequentare diciamo gli ambienti più frivoli del mondo dello spettacolo secondo te c'è una strada giusta che uno dovrebbe avere quando fa quel lavoro no secondo me devi essere una persona seria anche se il tuo lavoro non è così serio non è futile ma secondo me la la verità è che sì bisogna essere sempre è un lavoro molte volte la gente sbaglia pensando che è un divertimento non è vero che è un divertimento se sei serio è un lavoro lo devi interpretare come un lavoro per cui ogni operazione commerciale ha dei risultati qualche volta bene qualche volta male qualche volta va male se va male valutare la motivazione perché potrebbe essere andato ma se sei del mestiere l'hai visto vedere i tuoi artisti in televisione quando cantano le prime volte delle canzoni nuove è molto importante perché c'è chi passa più facilmente dal video e chi fa più fatica se fa più fatica magari cercare di capire cosa si può smussare per arrivare più facilmente perché comunque uno non ci pensa però cantare dal vivo a un concerto in televisione sono due cose totalmente diverse assolutamente diverse intanto la televisione c'è il faccione in primo piano eccetera il concerto sei più lontano e c'hai una situazione diversa alle spalle c'hai i musicisti dal vivo c'è una situazione più autentica la televisione non è che è finta però una volta poi si andava solo in playback per cui in effetti mettevi la voce sul disco fatto che è sicuramente migliore perché non era attrezzata non perché non erano capaci non era attrezzata la televisione per le riprese live per cui se invece è attrezzata perfetto il live è sempre migliore chiaro e invece ripensando mentre parlavi mi è venuta in mente se è la famosa dichiarazione che è poi finita su tutti i giornali di Maria De Filippi che dice uno dei miei più grandi rimpianti è che ultimo sia passato da amici e noi non ce ne siamo accorti Meron mi portò Antonacci che aveva scritto le prime canzoni e devo dire che Antonacci non mi colpì particolarmente né per vocalità né per canzone e gli disse di no e poi Antonacci ha avuto un senso successo e questo io sono contenta ho sbagliato e meno male che ho sbagliato perché poi magari gli ho dato qualche intuizione non lo so la verità è che poi ha fatto successo e io non l'ho fatto questo sì certo lui è il più eclatante e invece perché il ruolo da giudice da personaggio televisivo tutti lo possono vedere in televisione secondo me molti ancora non sanno esattamente che cosa fa un discografico finora abbiamo parlato degli artisti che tu hai seguito a cui hai dato consigli però all'inizio della chiacchierata hai detto io mi occupavo di promozione all'inizio sì prima la promozione che è quella dell'esporre il prodotto discografico che è un disco quindi mi spieghi come andavi a raccontare un artista che ancora nessuno conosceva a convincere le radio no raccontavo brevemente la storia eccetera eccetera poi avevo un disco da far sentire certamente certe volte ha funzionato certe volte non ha funzionato per cui succede purtroppo succede però noi andavamo col disco quando già il disco aveva una completezza era già stato fatto un lavoro che può durare noi con Ferro ci abbiamo messo un anno e mezzo io con la Nannini ho messo due dischi Buki al terzo disco la Gianna è uscita quando finalmente schisse America che era un pezzo forte certo quando parlo con degli artisti che hanno ad esempio la mia età una cosa che molti dicono è oggi è più facile emergere chiaramente perché hai molti più strumenti a disposizione però è tutto molto più frivolo però finisce anche in fretta però succedeva anche scusa se dico ai tuoi tempi ma succedeva anche ai tuoi tempi che magari un'etichetta prendesse un artista e poi dopo un po' si rompesse le palle e lo lasciasse lì così no magari provava due o tre volte perché in genere nel periodo portava che era il terzo disco che tu avevi successo poi recuperavi anche i dischi precedenti no secondo quanto i direttori artistici o cosa credevano in questo artista per cui voglio dire era un modo beh ma è un modo giusto di lavorare c'era per arrivare dovevi tanto passare le le sgrinfie delle radio e delle televisioni c'era molto non c'erano tutte le radio libere c'era solo la Rai se la Rai non piacesse all'Arbore non piaceva il disco per qualsiasi motivo non passava per voi giovani che era una cosa molto importante farlo per cui secondo me era tutto un mondo completamente diverso c'era e bisognava insistere un po' sul personaggio su quelle cose che proponeva per poter avere un risultato molti artisti hanno fatto successo al terzo disco e devi avere in quei momenti la forza di continuare a crederci la forza di continuare a crederci e di sì certo anche la Gianna ha fatto successo al terzo disco e lei cosa cosa pensava tipo dopo i primi due dischi ma la Gianna aveva vomitato i suoi primi due dischi liberandosi da un problema che aveva erano costati non tanto ma da un problema di scrittura eccetera e non apriva la sua testa ad altre cose la comunicazione è importante se la faccio in modo che capisci tu lui 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 allora va bene se invece faccio una cosa che per sfogare le mie chi se ne frega voglio dire non è detto è proprio una tecnica e quindi quando poi arriverò Michelangelo Romano che era un produttore di venditi eccetera eccetera Michelangelo lavorò molto con lei sulle canzoni e nacque America e tante altre canzoni che erano tutte forti che sono state poi il suo inizio il suo successo così si lavorava certo perché per arrivare i dischi però costavano meno i costi erano molto più contenuti tipo quanto cosa parliamo anche della parte economica nel senso che chiaramente nello stagista io sono il tuo stagista per un giorno quindi voglio imparare concretamente quel lavoro da un punto di vista monetario come funzionava cioè un discografico guadagna delle percentuali guadagnava un discografico guadagna sulle no l'artista guadagna sulle percentuali il disco ha delle percentuali che sono più basse all'inizio giustamente e anche perché molte volte il più basso all'inizio ti consente al terzo disco quindi tu hai già speso due dischi prima di recuperare un po' di soldi di quelli che hai investito su di te e si guadagna sulle edizioni nel senso che l'editore che sarebbe sovente lo stesso la stessa la stessa è editore è discografico l'editore quando tu fai un pezzo fantastico fai conto ti cito un fatto familiare mio suocero il papà di mio marito ha scritto tutto Carosone Carosone è ancora un autore che con tubo fa l'americano con questo e questo ancora in cassa tanti soldi la verità è che l'autore quasi sempre il discografico è anche l'editore della proprietà della canzone l'editore ti voglio fare una domanda su tuo marito che Alberto Salerno è un grandissimo autore della musica ti vedo già dire anche meno anche meno mi dici secondo te qual è la canzone più bella che lui abbia scritto e la più brutta secondo me la più bella è stata un pezzo di zucchero madonna un rincoglionimento e ne ha scritte tante per zucchero sì tante vabbè donne mi piaceva molto perché infatti poi andò a Sanremo arrivò nelle ultime poi a settembre cominciò a funzionare funzionò un piccolo aiuto che mi piaceva molto il concetto che cercava un piccolo aiuto cioè proprio uno che si accontentava beh era molto carino mi piaceva perché tante volte abbiamo bisogno di un piccolo aiuto cioè non serve un grande aiuto però un piccolo aiuto ti rasserena ti fa star tranquillo per cui mi piaceva l'idea la sentivo fisicamente unita a me e invece quella che ti convinceva che ti ha convinto meno puoi anche dirmi che sono tutte belle però te la volevo fare questa domanda non è vero non è vero ci sono delle misure adesso una che non mi è piaciuta non te lo so beh qualcosa ci sarà se non me le ricordo tutte mi piaceva senza pietà perché questa donna combattente la trovavo abbastanza simile a me si è sempre molto combattuto combattuto qualche volta per cose inutili e qualche volta per cose utili come sempre il combattimento purtroppo ce l'hai dentro un casino e parliamo di combattimento mi dici un momento difficile della tua della tua carriera perché ogni volta che chiaramente uno vede una carriera di grande successo non pensa al fatto che ci siano stati magari anche tanti momenti bui me ne racconti uno in cui non ti girava una cosa giusta sono mica superman sono una persona umana è tutto quando ho trovato difficoltà nella discografia quando ho capito che non mi capivano quando ho spinto su cose su alcuni artisti in cui mi chiamavano mi diceva Mara ma qui perdiamo soldi eccetera per cui quando ti fanno delle rimostranze di questo genere devo dire rimani molto male perché giusto un'industria agli impiegati cosa paghi agli impiegati di pagare lo stipendio eccetera lì lo pagavi con le edizioni con la dischi di soldi per cui lì andavi veramente in crisi per due o tre giorni quando ho mandato Aida a Sanremo con un pezzo che a me piaceva ma che invece non ha avuto risultati dopo mia mamma che era andato molto bene per cui ho avuto dispiacere me è dispiaciuto e sono stata in difficoltà certo sono stata in difficoltà quando la discografia mi sono messa per conto me ho avuto grande felicità quando Ferro perdono è andato in tutta Europa una cosa eccezionale per cui mi è dispiaciuto non è che mi è dispiaciuto ma quando dopo tre anni di lavoro dopo quattro cinque anni di lavoro poi Ferro giustamente doveva andare in una industria in una major perché avendo l'estero eccetera non c'è dubbio che era diventava più difficile però quando ci siamo lasciati così senza dirsi perché mi è dispiaciuto però vabbè chi se ne frega poi la vita continua dopo ho fatto altre cose ecco solo questo mi è un po' dispiaciuto perché pensavo di non meritarmelo non so come è arrivato il Salerno perché non entro nel merito delle altre magari lo inviteremo nella prossima stagione ti racconto delle cose terrificanti il Salerno mi fa molto ridere perché non è politicamente corretto non esiste la politica per lui che è diversa non è politicamente corretta è troppo è troppo corretto non corretto è troppo non corretto però prima abbiamo citato anche prima Tiziano Ferro non ti ho chiesto come lo avete scovato dunque eravamo andati a un concorso che faceva un signore a Sanremo uno del mestiere e ci ha presentato tanti artisti nuovi di cui devo dire c'erano delle cose interessanti ma la cosa che più ci colpì fu Ferro con una canzone sua ancora confusa però questa timbrica questo colore di voce bellissimo secondo me ci era piaciuto l'abbiamo rincorso gli abbiamo fatto l'offerta e ci siamo messi a lavorare e poi lui per cui l'ho trovato sul palco di giovani artisti in una città vabbè poi particolarmente quando la Gianna mi chiamò un mio amico di Siena disse guarda è la figlia di uno molto importante mamma mia ho detto qui adesso la solita rottura di coglioni che ti mettono nel raccomandato di turno invece poi quando è arrivata si è messa al pianoforte faceva una canzone terribile però lei aveva questa foga che mi è molto piaciuta per cui io li ho sempre trovati a caso e la Gianna raccomandata che devo dire è terribile per me fu perché ero già prevenuta al cento per cento ci credo perché quando ti raccomandavano qualcuno era qualcuno che avevano già raccomandato ad altri venticinque e lei non era andata bene no perché poi posso dire lo dico anche al pubblico che ci sta seguendo io ti ho conosciuto oggi e credo che anche fuori onda tu sei la persona più gentile alla mano del mondo però io ricordo anche quando tanti tanti anni fa guardavo X Factor pensavo cavolo ci fossi io su quel palco me la farei sotto perché comunque mettevi in soggezione tanto ma non mi sembra nel senso che sei esigente ascolto con attenzione perché cerco di capire dove può essere importante dove c'è un attacco la motivazione per cui cominciare la Gianna aveva questa foga Ferro aveva una bella timbrica la PFM aveva fatto i dischi di tutto il mondo in Italia non i migliori tanti artisti per cui voglio dire ho uno un autore forte tante le motivazioni tanto è vero che Paolo Conte che era un autore poi alla fine cantò perché il suo racconto le sue interpretazioni delle sue canzoni era veramente unica ma voglio dire grande e Giannaci ecco le persone più eccezionali che ho conosciuto sono Enzo Giannaci e Giorgio Gaber devo dire amici di Ali e Enzo era troppo forte veniva nel mio figlio ed era venuto in moto aveva il giornale sotto la giacca mi faceva molto forte molto forte e so che tu hai lavorato anche con De Andrè sì l'ho lavorato lo seguivavo lui poi faceva tutte le sue cose le sue canzoni di lui che ricordo hai? da genovese non posso non farti questa domanda ah sei genovese? sì sono genovese eh beh lui era un carattere lui era molto simpatico poi quando gli girevano le scatole meno ma quello però era forte era intelligente capito molto intelligente questo è un vantaggio perché capisci anche i momenti difficili lui non aveva mai voglia di scrivere perché quando lui scriveva quando ha scritto il disco degli indiani ha letto 8822 libri che raccontava cioè non arrivava arrivava preparato quando scriveva un disco e dava delle cose e si preparava anche come scrittura come storia il racconto il perché ragazzi qui a fare il disco non è che ti metti lì e fai le famose canzoni della cameretta che poi non gliene frega più perché poi sempre ste camerette due coglioni allora invece Fabrizio questa gente è raccolta colta leggere i libri leggere i libri leggere imparare capire molto importante anche perché così racconti qualcosa di interessante di particolare che solo tu sai fare e come si fa a diventare insostituibili cioè come si fa a capire la propria la propria unicità cioè ti è capitato di magari far notare a degli artisti una loro particolarità quindi dire prova a far leva sulla cosa quella cosa lì ma magari da parte loro anche caratteriale una cosa per esempio io quando ho cominciato a lavorare sono arrivata alla Fonnicetra e mi hanno detto guarda c'è un po' di artisti da insomma da andare via perché non hanno fatto niente eccetera e sente ascoltai abbastanza a un certo punto sento e sento una voce spettacolare che era Mango Mango era un uomo un cantante credo il miglior cantante che io abbia mai conosciuto una possibilità vocale micidiale però stranamente quando gli fece una proposta per andare all'estero e che gliela fece un produttore inglese molto forte lui lì non volle andare perché si concentrava sull'Italia non so dirti perché non ho mai capito forse lo capirò se un giorno ci incontriamo magari lo capisco perché era veramente un cantante internazionale perché secondo te avrebbe dovuto farlo prendere e andare stai scherzando aveva una qualità di un modo di cantare bestiale la prima intonatissimo precisissimo veramente forte secondo te parlavo qualche giorno fa con un mio amico del fatto che il mercato musicale italiano credo da quest'anno o dall'anno scorso è entrato nella top ten dei primi dieci mercati musicali al mondo quindi è una cosa una cosa bellissima secondo te perché noi da sempre abbiamo questo problema che o non ci crediamo abbastanza a noi potercela fare all'estero oppure effettivamente il limite linguistico è troppo grande oppure il limite culturale il limite linguistico esiste l'inglese il mondo appartiene a queste cose qui quindi il fatto di cantare in italiano è un po' negativo non c'è dubbio il mondo è anglosassone certo invece un artista internazionale con cui hai avuto modo di confrontarti di conoscere c'è una cosa che disse Bon Marley a noi della ricordi che era Highland lui era distributore di corni che siamo rimasti tutti colpiti e che non abbiamo ancora capito se ci ha preso in giro o se ci ha detto la verità non l'abbiamo capito davvero perché ci sia mai possibile perché diceva quando lui perché aveva indovinato questo levare della chitarra perché arrivava alle radio dagli Stati Uniti eccetera e arrivavano tutte con disturbi per cui c'era questa storia del levare che lui poi l'ha usata per le sue canzoni non abbiamo mai capito se ci ha preso in giro o se ci ha detto la verità però è stata una cosa carina rimarrà un mistero rimarrà un mistero certo invece parliamo un po' allora prima abbiamo parlato cioè abbiamo snocciolato tanto tutto il discorso della discografia credo che abbiamo dato anche tanti consigli utili secondo me tanti ragazzi che magari sognano di fare musica parliamo invece della televisione mi racconti una tua giornata tipo durante uno dei programmi che hai fatto ad esempio quando facevi X Factor com'è che si avvenivano le registrazioni perché secondo me è una cosa che può incuriosire molti noi durante i famosi provini ascolti in diretta i ragazzi che non conosci non hai idea e lì devi decidere in 3-4 minuti se sì o se no non c'è dubbio che se io ho dei dubbi dico sì perché mi aspetto di risentirlo se non ho dubbi dico no per cui è molto facile è semplice e devo dire che secondo me uno dei migliori giudici di Sfatto è stato sicuramente Morgan che ha veramente è geniale peccato che abbia un carattero che non si sa mai se un giorno è giovedì o un giorno è domenica però è sicuramente un ragazzo con delle qualità e devo dire che insomma era semplice sentivi e decidevi se no sì invece vorrei parlare per un attimo di viaggi nel senso che tu da qualche mese in realtà l'hai fatto già l'anno scorso hai fatto questo programma bellissimo che hai anche ideato quelle brave ragazze sei stata quelle vecchie in cui no 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 in cui con due compaglie di viaggio incredibili tutte agi tutte no beh però siete simpaticissimi fate delle cose che io avrei fatica a fare a 23 anni perché siete anche noi magari a 80 la Milo ha 90 anni io ne ho 82 la Berti ne aveva 80 per cui voglio dire vedi te che bel gruppo di giovincelle e con questo programma un bel po' di viaggio anche in quest'ultima edizione ve li siete fatti c'è un posto che non sei ancora riuscita a vedere nella tua vita che sei lì che fremi che vorresti tanto vedere ma guarda sono molto curiosa nei paesi del nord i fiordi questo mondo così differente dal nostro uguale all'Africa d'altronde nella stessa modo differente per cui i fiordi certo bisogna farli in primavera estate perché se vai dopo un freddo è terribile però così mi fanno curiosità magari la prossima stagione se ci sarà buttiamogli l'idea invece un'altra cosa che volevo chiederti assolutamente ci sono tantissime cose che vorrei chiederti che cos'è che ti ispira nella tua vita quotidiana film, libri qualunque cosa leggo mi piace la storia mi piace molto i libri di storia sono i miei preferiti perché hanno e poi vedi come la storia si ripete sono molto curiosa anche nei documentari guardo in televisione qualche volta sono dei documentari su artisti su anche scienziati ieri ho seguito la vita di Tesla che era andato da Edison e che poi Edison non ha capito per cui è molto interessante fare questo mi sembra che fosse polacco rumino non mi ricordo era sicuramente slavo e che quindi ecco mi piacciono mi incuriosiscono le storie di quelli che hanno avuto un risultato per vedere che Tesla ha fatto una fatica per cui vedere se bisogna qualche volta la fatica la devi far sempre per uscire dal guscio è come quando nasci la fatica la fa la madre il figlio per cui voglio dire fatica vedi a nascere devi sempre far fatica invece mi dici un consiglio che ti ha dato qualcuno durante la tua carriera durante la tua vita che è stato così fondamentale che tu ogni giorno lo tieni a mente ma un consiglio è non essere superficiale cercare di capire io però sono abbastanza superficiale devo dirti la verità perché ho detto una stronzata ma beh essere disponibile questo è importante essere aprirti al prossimo perché magari il prossimo qualcuno dice una cosa giusta e tu da lì parti cominci a sciogliere la lana nel senso per cui essere attenti essere disponibili io parlo con tutti anche comunque cioè questo mi piace beh sei qui oggi se non fossi stata disponibile ma io parlo anche proprio con se mi piace perché metti che ti dà un'idea che ne sai una canzone per esempio mio suocero e mio marito vanno tantissimo andavano al cinema per adesso perché magari una frase che dice qualcuno ti ispira a una situazione cioè essere attenti è importante molto importante quindi essere sempre liberi liberi ricevere ricevere ma dare è giusto ma anche ricevere perché se tu non ricevi non dai te capi quanti di ora ottimo consiglio se non ricevi non dai perché poi rielabori capito tu ricevi rielabori e poi ridai sì questo discorso quando lo dicevi anche prima del fatto che la storia nella musica si ripete mi ha colpito per moltissimi potrebbero dire non meglio non seguire però rielaborare le cose è quasi un po' un copiare però in effetti sono veramente convinto che la musica qualunque cosa sia una rielaborazione di pensieri di frasi di cose che uno vede qualcosa ti ispira voglio dire una frase ti ispira e per cui da lì parti poi a fare delle altre cose non è detto che e poi tu impari a scartare quello che non ti interessa decidi voglio dire non è che non sei un essere pensante per cui quello che ricevi lo analizzi o lo ributti che non ti interessa se no magari prendi una piccola parte o una piccola parte ti porta a fare una a navigare nel tuo mondo per cui stare attenti ecco essere attenti è importante e invece siamo quasi alla fine di questa ultima puntata di questa stagione dello Stagista Podcast voglio chiederti una tua passione che nessuno conosce no veramente le mie persone le conoscono tutti devo dirti la verità ma forse perché ho fatto questo insieme l'azzardo mi piace mi piace giocare a carte mi piace fare queste cose cioè mi diverto e poi le passioni sì devo dire che il resto è normale leggo normale guardo la televisione normale non lo sai giocare mi piace mi piace la sfida la sfida mi piace molto burraco scala 40 burraco scala 40 poker mi piaceva moltissimo adesso e poi basta sai che io a 23 anni faccio ancora fatica a capire la differenza tra burraco e scala 40 perché faccio schifo in entrambi i giochi no vabbè io a burraco gioco con le vecchie che ci hanno un culo mi fanno vendere un bottone le picchierei sul tavolo ma però è così ci hanno culo bisogna sopportare subire il culo degli altri è una delle cose più difficili che ti possa capire cioè io capisco l'artista che sente un successo che non avrebbe mai fatto e che fuori dal suo schema fuori dalle sue idee fa successo si incazza come una bestia certo vabbè sei fortunata sei fortunata in amore allora vuol dire beh sono stata fortunata sono sposata da 47 anni se non fossimo stati un po' fortunati saremmo già separati da mo sono stata fortunata ho una bella famiglia le figlie brave insomma sono contentucci bene allora chiedo anche al magico staff dello stagista se ha una domanda per Mara perché noi abbiamo questa tradizione che mentre ci avviciniamo alla fine della puntata se i ragazzi che lavorano con me hanno una domanda e te la fanno e poi tra poco ti farò una domanda che ti ha lasciato l'ospite della puntata precedente senza sapere che ci saresti stata tu cioè noi facciamo questa cosa che uno al buio scrive una domanda e la fa poi prego se ce l'abbiamo dato che all'inizio puntata hai detto che sei molto curiosa se ti piacerebbe fare qualcosa che ancora non mi fa mi piacerebbe farne tantissime dipingere guarda la cosa che mi piacerebbe fare più di tutti sarebbe cantare ma sono una tale pippa che non posso neanche pensarci e rimarrà per sempre un desiderio inespresso quindi è vero che se uno non sa cantare non può imparare perché se ci sono varie correnti di pensiero quelli che dicono no ma anche se sei stonato se uno è stonato di natura è difficilissimo che impari se si sforza molto può migliorare ma in qualche momento viene fuori sempre è come una malattia la stonatura eh sotto la doccia va bene va bene chiudiamo questa puntata con una domanda che ti ha lasciato l'ospite della puntata precedente la scopriamo insieme a te ti chiede quanto in senso puoi interpretarla tu come vuoi quanto hai guadagnato ieri? ma ieri ho visto questa cosa su Tesla eccetera e devo dire ho capito quanta fatica può fare un genio per essere capito è difficile perché lui ha fatto anche si è ritrovato senza una lira guarda ha avuto una vita e poi finalmente il triunfo guarda che fatica e tu pensi è stato fortunato perché avrà capito ma poi quanto ha lavorato per farlo capire agli altri per cui devo dire che bisogna insistere nelle cose in cui credi perché può essere che tu abbia ragione certo prima o poi la persona che ti capisce la trovi prima o poi bisogna resistere mi sembra un bellissimo consiglio per chiudere non solo questa puntata dello stagista podcast ma anche di questa lunga stagione che abbiamo passato insieme mi fa piacere Mara io ti ringrazio perché è stato un grande onore essere il tuo stagista per un giorno adesso onore non esageriamo è stato un piacere mi sembra più logico e l'onore è una cosa troppo importante l'onore è una roba troppo importante perché io sia venuta qui l'onore no è il piacere è il piacere tu com'eri con i tuoi stagisti scusa se ti interrompo con le persone ma io bene cercavo di fargli capire ma io sono una persona abbastanza gentile è giusto ogni tanto mi rompo i coglioni allora dopo esplodo dico delle cose brutte che magari non penso perché poi succede così però sono abbastanza abbastanza gentile credo almeno se non ho come ti ho conosciuto io oggi lo sei sei meravigliosa sono così sempre sono così poi se mi inalbero mi offendo capito allora divento più cattivella però insomma no capisco che poi ognuno anche offendersi è sbagliato perché magari uno dice una cosa che non ci pensa certe cose lo dice ma insomma non è grave Mara grazie è stata una bellissima checchierata mi ha fatto piacere Mara Maionchi all'ostagista podcast all'ultima puntata all'ostagista podcast ringola te ringola te ringola te